Giovani e innovazione oltre la crisi, questo è il filo conduttore di un incontro organizzato dall'Istituto Piepoli e dall'Università Dante Alighieri di Reggio Calabria che da gennaio offriranno due corsi di alta formazione per giovani laureati. Si tratta di un master in promozione internazionale del turismo e del territorio che si terrà a Reggio Calabria in collaborazione con le associazioni C3 International e Posto 9 e di un master in marketing intelligence per tecnologie, trasporti e turismo che si terrà invece alla mezzaterme. Due iniziative nate per costruire nuove professioni e che si avvalgono anche di voucher di sostegno erogati dalla Regione Calabria. Le opportunità sono davvero per tutti. Essere donna, essere calabrese, essere sodata è sicuramente difficile ma lo stesso l'ottimismo non deve sparire dentro di noi perché altrimenti non vediamo il futuro. Quindi combattere, informarsi sempre e cogliere tutte le opportunità e soprattutto provare a fare impresa, investire in se stessi, cogliere i finanziamenti a disposizione dell'imprenditoria femminile e giovanile e portare avanti la Calabria perché ci sono troppe cose belle in Calabria. Anch'io sono una ragazza di Calabria che si è rimboccata le maniche e ha combattuto la crisi. Il comune di Cosenza ha voluto ospitare questo incontro divulgativo perché simili iniziative si sposano benissimo con gli indirizzi dell'amministrazione comunale. Qui parliamo di innovazione sociale, parliamo di città intelligenti, parliamo di marketing intelligence, tutti i temi sui quali l'amministrazione occhiuta è da tempo impegnata. Ci fa piacere che anche le iniziative che si muovono nel campo della formazione riflettano questa tendenza di fondo della nostra Giunta.